Giovan Domenico Lepore La proposta dal comune ha fatto bene agli americani ma continua a nuocere al commercio locale, soffocato da restrizioni pedonali nell'ambito delle quali ad essere spariti sono i pedoni e quindi i possibili acquirenti. Nonostante il grido d'allarme dei presidenti di Commercio Russo, De Magistris invoca la ZTL perenne. Chi rigabbia ferisce?